Un viaggio in cinque tappe per discutere gli effetti della nuova stagione del governo del territorio in Toscana inaugurata con la legge urbanistica regionale 65 del 2014 sul consumo zero di suolo e con il piano paesaggistico. A incontrare gli amministratori locali, i tecnici e i professionisti che devono confrontarsi con le nuove norme regionali l'assessore regionale all'urbanistica Vincenzo Ceccarelli. Il tour ha toccato Livorno, Lucca, Grosseto, Prato e si è concluso ad Arezzo con un convegno organizzato da Regione Toscana, Anci Toscana e Comune di Arezzo nel corso del quale si sono tirate le fila di un percorso che è stato molto partecipato e che ha destato grande interesse negli enti locali. Questo tour ci ha fatto calare meglio sui territori, ci ha fatto incontrare i rappresentanti dei comuni, delle professioni, delle categorie economiche. Mi sembra che il risultato che ne scaturisce è quello che siamo sulla buona strada per quanto riguarda l'attuazione sia della nuova legge urbanistica sia del piano paesaggistico e sono due strumenti coordinati tra loro che hanno lo stesso comune obiettivo, quello di garantire uno sviluppo sostenibile e durevole al nostro territorio e alla nostra regione. L'incontro conclusivo del tour della regione si è svolto alla Casa della Musica di Arezzo e anche in questo caso è servito ad ascoltare dalla voce degli amministratori lo stato di adeguamento alle nuove norme da parte dei comuni e anche le eventuali criticità nell'applicazione di queste norme. Alla base della legge urbanistica 65 del 2014 in ogni caso ci sono la semplificazione e la pianificazione intercomunale pensati entrambi per accompagnare gli enti locali in uno sviluppo che possa essere sempre più sostenibile, un modello che inizia a fare scuola anche fuori dalla Toscana. Il 65 ha trovato un meccanismo efficace per quanto riguarda la riduzione del consumo di suolo, siamo da questo punto di vista un riferimento anche sui tavoli nazionali, altre regioni ci stanno guardando con interesse e probabilmente cercheranno di copiarci. Emerge che dal punto di vista della rigenerazione, altro aspetto e obiettivo importante della legge, c'è comunque bisogno di un sostegno per andare in questa direzione sia con finanze pubbliche sia probabilmente agendo sulla leva fiscale. Buono anche il meccanismo della partecipazione che come sappiamo è diventato importante anche per quanto riguarda la legittimità degli atti. Intanto si tirano già le somme del nuovo strumento introdotto con i piani urbanistici intercomunali che semplificano la vita agli enti locali attraverso bandi finanziati dalla regione con l'obiettivo di arrivare a un piano strutturale d'area. Il bilancio, stilato in occasione dell'evento ad Arezzo, conta già 120 comuni che hanno scelto questa soluzione. Il risultato sarà la realizzazione di 25 piani strutturali d'area. I piani strutturali intercomunali anche in virtù del sostegno che la regione dà sia per quanto riguarda l'accompagnamento e l'assistenza tecnico-giuridica da parte dei nostri edifici ma anche mettendo risorse per consentire ai comuni di affrontare le spese che comunque hanno da affrontare. Noi siamo al quarto bando per sostenere i piani strutturali intercomunali e una volta assegnate anche le risorse del quarto bando avremo distribuito oltre 3 milioni e mezzo di euro. I primi a essere interessati alla semplificazione delle norme che spesso possono comportare difficoltà di adeguamento e tempi lunghi sono soprattutto i piccoli comuni che costellano il territorio toscano, molti dei quali infatti hanno scelto la pianificazione intercomunale. Mentre magari l'amministrazione di maggior dimensione potendo soffrire di risorse di personale significative hanno modo anche di affrontare abbastanza perentoriamente quelle che sono le novità normative, magari i comuni più piccoli hanno bisogno di essere accompagnati in questo percorso e anche questo ciclo di incontri va in quella direzione lì perché ovviamente bisogna aggiornare gli strumenti e c'è del lavoro dietro. In generale, questa la cifra del dibattito che si è svolto, in Toscana si registra una crescita culturale in atto nel percepire che lo sviluppo non è in contrasto con la tutela del paesaggio. Esattamente lo spirito con cui sono stati pensati i nuovi strumenti urbanistici della regione con la legge 65 con il piano del paesaggio e discussi non a caso nel corso del tour in zone ben diverse anche sul piano paesaggistico della Toscana, dalla costa alle aree industriali. La Toscana è una terra molto bella dal punto di vista del paesaggio estetico, questo la fa, la rende riconoscibile nel mondo ma è anche una terra che basa la sua ricchezza, il lavoro sulla manifattura, sul saper fare, sull'agricoltura. Ecco, non sfugge a nessuno che ogni prodotto, sia un prodotto dell'agricoltura, sia il vino, sia olio, ma anche un gioiello, ma anche un tessuto, se provengono dalla Toscana hanno un valore aggiunto, ma hanno un valore aggiunto perché la Toscana è questa, abbiamo alle spalle una grande cultura della pianificazione, dobbiamo cercare di guardare avanti portando il paesaggio all'interno del nostro modello di sviluppo. Per venire incontro alle esigenze dei comuni che di questi strumenti devono usufruire è stato creato anche uno strumento apposito da IRPET, l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica, l'Osservatorio Territoriale, un database facilmente consultabile anche da imprese e cittadini che contiene dati di varia natura, demografici, economici, insediativi e relativi alla spesa dei singoli comuni, tutti confrontabili e utilizzabili per pianificare le azioni sui territori. Vengono forniti questi dati con un percorso interpretativo, si cala il territorio che è quello comunale perché il database viene interrogato a scala comunale, però il territorio viene calato in abiti territoriali più ampi, vengono proposti continui confronti con territori simili e quindi consente a chiunque lo voglia interrogare, a partire dai comuni che vogliono magari ricostruire un quadro conoscitivo necessario per l'elaborazione dei loro strumenti di governo del territorio, ma chiunque può interrogarlo, anche le imprese, anche il singolo cittadino e fornisce una lettura semplice del territorio con continui confronti e molto ricca perché poi tutti i dati possono essere scaricati. Strumenti che affiancati a quelli normativi messi in atto dalla regione toscana serviranno ora a pianificare le azioni future in materia di urbanistica sul territorio anche attraverso un'azione di chiarificazione delle regole in campo per semplificare la vita ai comuni, piccoli e grandi. La nostra sarà un'opera non solo di chiarificazione rispetto all'applicazione delle norme come ANCI insieme alla regione, ma anche di sollecitazione e di ruolo proattivo rispetto ai piccoli comuni in particolare a tutti coloro che devono aggiornare gli strumenti urbanistici perché rispettino le scadenze, perché se le scadenze non vengono rispettate ovviamente ci sono delle conseguenze che poi si riverberano in maniera negativa sui nostri territori, invece è importante cogliere le opportunità che le nuove norme ci consentono ed evitare quelle che sono le sanzioni invece in caso di inadempienze. La tabella di marcia stabilita dalla regione toscana ha scadenze precise già fissate per la piena entrata in vigore delle nuove norme in modo da far entrare a pieno regime i principi stabiliti dalla legge 65 e dal piano del paesaggio. La strada è avviata, ora i comuni dovranno progressivamente adeguarsi. Gli obiettivi che ci aspettano sono quelli di completare l'adeguamento e la conformazione alla legge e al piano. Entro il 2019 tutti i comuni dovranno iniziare i procedimenti, entro il 2023 tutti i comuni dovranno avere i nuovi strumenti e già questo sarà un quadro straordinario che avremo creato nella Toscana avendo tra l'altro dal punto di vista del quadro conoscitivo creato uno statuto unitario per tutti. Quindi tutti avranno la conoscenza degli stessi dati, tutti avranno rispettato le stesse regole, tutti saranno in condizioni di procedere nelle trasformazioni attraverso corrette regole trasparenti, rigorose ma preventive e non successive. I suggerimenti, le criticità sottolineate e i commenti emersi dagli incontri nelle cinque tappe del tour della regione serviranno a sbrogliare eventuali contrapposizioni tra leggi regionali e nazionali e a oliare ancora di più i meccanismi stabiliti dai nuovi strumenti normativi regionali. Grazie.